Ciao a tutti, oggi ho deciso di cucinare dei crostoni con dell'olio strapazzato e funghi d'orcini. Per prima cosa ho tostato del pane, nel mio caso ho scelto un pane semi-integrare a lievitazione naturale. Ho strapazzato l'olio in padella e ora andiamo a creare i nostri crostoni. Aggiungiamo i nostri porcini, cotti semplicemente in padella, con dell'olio, un filo d'olio lago e una testa con un spicchio d'aglio. Aggiungeremo un pizzico di sale e di padella. Ho deciso di accompagnare il tutto con della ciclone di campo ripassata. Semplicemente con un goccio d'aglio, spicchio d'aglio e del beperoncino. Un piatto veloce, semplice, da realizzare e nutrizionalmente bilanciato. Buon appetito!